Musica Sabato 27 febbraio San Gabriele della Dolorata, è il 58esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 308 al termine. Il sole sorge alle 6.54 e tramonta alle 17.54, la luna si leva alle 22.44 e tramonta alle 9. Una legge, benessa dal maggior consiglio, proibisce a qualsiasi persona, compreso il DOGE, di ostacolare l'operato degli avogadori di Comun, incaricati della custodia dei beni dello Stato. Le previsioni per domani, tempo perturbato con cielo in prevalenza coperto, precipitazioni, probabilità alta di fenomeni stesi di moderata o forte intensità, Precipitazioni persistenti e abbondanti su zone centro-meridionali o localmente molto abbondanti su zone montane e pedemontana, un po' meno frequenti con quantitativi contenuti sulla pianura meridionale. Limite delle nevicate intorno ai 700.000 m al mattino, in rialzo fino a circa 900.000 m sulle Dolomiti, un po' più in alto sulle Prealpi. Possibili fenomeni anche a carattere di rovescio o d'occasionale temporale, specie in pianura in serata, temperature in aumento.